Amici di Unibet, arriva la finalissima di Champions League. Se due anni fa la squadra di Allegri c'era arrivata da sfavorita, quest'anno arriva perlomeno alla pari con i Blancos. Non sarà semplice, ma certamente Allegri ha preparato nel miglior modo possibile la gara e per quello che riguarda anche le sensazioni e possibili pronostici, sono convinto che la formazione Bianconera possa farcela. Una vittoria, magari anche con tanti gol, perché se è vero che entrambe le formazioni hanno mostrato delle difese di ferro, è anche vero che una finale tirata con due squadre che se la giocheranno a Pisa aperto può regalare emozioni e gol. Quindi il mio consiglio è quello di favorire la formazione Bianconera, ma con grande attenzione al numero di gol e al fatto che entrambe le squadre possano certamente andare a segno. Buona finale a tutti! Grazie a tutti!